Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto un libro. Se è questa la prima volta che vedete la mia faccia vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like se vi piacciono i tipi di contenuti che vi propongo come questo. Infatti oggi parliamo ovviamente dei libri e parliamo della mia ultima lettura che è l'anno delle parole ritrovate di Bea Buozzi per Morellini Editore. Questo è il secondo volume, infatti il primo è stato l'anno dei nuovi inizi ma voglio subito precisare che non è necessario aver letto il precedente volume per poter leggere questo in quanto sì sono raccontate sempre le vicende degli stessi personaggi più o meno ma sono comunque evitati autoconclusivi quindi niente panico. E ora cominciamo a raccontare l'anno delle parole ritrovate. Ora il titolo in realtà spiega molto bene la struttura del romanzo, infatti l'arco temporale è proprio quello di un anno. Si apre con gli ultimi istanti del 2021 e poi in realtà da gennaio del 2022 sino a dicembre di questo stesso anno e quindi la scansione temporale è molto ben drinata, infatti i capitoli corrispondono a ogni mese dell'anno e ne succedono di ogni in ogni mese dell'anno abbiamo visto e a questi condomini e in realtà anche a tutti noi perché tra l'altro alla fine di ogni capitolo c'è uno specchietto che riassume gli eventi salienti del mese appunto riferito al capitolo. Dicevo, la storia si apre con una nascita, infatti si apre con le grida di Sofia che è nel pieno del travaglio e darà alla luce quella che lei credeva essere una bambina che in realtà si chiamerà Lucio perché è un bambino e lei si trova tra l'altro in ospedale insieme a Maurizio che non è il padre del bambino ma in quanto lui è felicemente accompagnato con Andrea ma il padre del bambino Edoardo che Sofia ha conosciuto attraverso un'applicazione per incontri in realtà è rimasto incastrato nell'ascensore del condominio che è una trappola praticamente quell'ascensore perché è talmente vecchio e avrebbe bisogno di talmente tanta manutenzione che si ferma ogni due per tre e per riuscire a uscire c'è bisogno quasi sempre dell'intervento di Bronte che è uno dei personaggi più divertenti devo dire del romanzo che in realtà sono tutti divertenti. Il commercialista barra la teen lover atipico però perché lui tutte le donne che ama poi alla fine se le sposa divorzia ma comunque se le sposa e poi incontra qualcun'altra quindi si sposa divorzia si sposa divorzia insomma è una giostra senza fine però comunque è un signore molto simpatico devo dire e dicevo lui è quello che salverà il padre del bambino il padre di Lucio dall'ascensore mentre però appunto Sofia darà la luce di questo bambino insieme a Maurizio che viene scambiato enormemente per il padre e quindi cominciamo anche a raccontare la storia di questa donna e vediamo tutto quanto la vita di questo bambino del primo anno di vita di Lucio che in realtà diventerà la mascotte del condominio nonché del Macondo il Macondo è il ristorante di Maurizio e Andrea dove Maurizio è lo chef ed è un locale gemellato in realtà con il condominio perché appunto è gestito da due condomini ma è anche un luogo di ritrovo per molti di loro perché al suo interno vengono organizzate tantissime iniziative legate un po' a quelli che sono gli avvenimenti dell'anno 2022 un anno veramente particolare infatti la autrice ci racconta avvenimenti piacevoli e avvenimenti meno piacevoli infatti ad esempio ci racconta l'inizio della guerra in Ucraina e attraverso anche gli occhi dei proprietari del Macondo che decideranno di organizzare una serata proprio per reperire il materiale e questo credo che sia qualche cosa che abbiamo fatto un po' tutti, abbiamo tutti quanti cercato di reperire del materiale da poter spedire e loro lo fanno organizzando una serata quindi raccolgono questo materiale e lo spediscono attraverso un'associazione ma in realtà la storia di Maurizio e Andrea è anche quella di due persone, di due imprenditori che si ritrovano a far fronte a quelle che sono le difficoltà davanti alle quali ci pone il 2022 perché come sappiamo tutti è stato un anno di rincari, bollette che sembravano poter arrivare alle stelle e grande, grandissima incertezza ma loro riescono comunque a barcamenarsi e a farlo nel migliore dei modi poi ovviamente come in ogni condominio che si rispetti c'è il portiere che praticamente sono gli occhi e le orecchie del condominio e quindi in questo caso si tratta di Oreste, Oreste è un meneghino doc che non concepisce il mondo perché il mondo finisce praticamente a Milano, cioè oltre i confini Milano c'è nulla e vabbè scherzo però, insomma e quest'uomo è piuttosto spigoloso, sembra burbero ma in realtà la U2 ci racconta che nasconde una fragilità una fragilità dovuta a un lutto, quindi quello della perdita della mamma che lui non ha veramente mai elaborato, non è accaduta da molto tempo e quindi è una fragilità ancora fresca ma è una fragilità che ha lasciato in lui una profonda solitudine e nel momento in cui lui incontra una solitudine uguale e contraria alla sua però qualcosa cambia diciamo che le due cose, non dico che si annullino ma comunque riescono a trovare una quadra e tra l'altro, cosa non dè poco Oreste è colui che è forse il solo che non è il solo perché poi ci sono le regole di bordo dell'ascensore che vengono sempre non rispettate ma è il solo che appunto non rispetta una regola del condominio che è quella di non dare da mangiare gli uccelli perché lui quando gira il cartello della portineria torna subito e in realtà va in terrazzo a dar da mangiare ai piccioni trasgressione comunque un altro personaggio molto importante per questa storia è Regina appunto quando parlavo di una solitudine uguale e contraria a quella di Oreste mi riferivo proprio a quella di Regina Regina è la mamma di Diana che è la condomina perché in realtà Regina non abita lì non abita nel condominio, lei abita in periferia ed è molto contenta di abitare lì non vuole assolutamente cambiare casa ma è una donna che sta attraversando un momento difficile un momento in cui si sente sola un inizio, un accenno di depressione accentuato anche dal fatto che lei comincia a non sentire bene ed è, perdonatemi il gioco di parole, proprio sorda anche alle richieste della figlia di invece scuotersi, prendere in mano, insomma reagire di fronte a questa difficoltà lei invece no, utilizza anche questo piccolo disagio proprio per chiudersi e schermarsi dal mondo l'unica cosa che riesce a scuotere un po' è il suo amore sconfinato per la corona reale inglese infatti, complice un viaggio a Londra e non vi sto a spiegare le dinamiche perché lì veramente ve lo dovete gustare cioè, c'è veramente da ridere quindi complice un viaggio a Londra diciamo che ritroverà un po' di brio, un po' di voglia di vivere e questo lo aiuterà molto e poi appunto incontrerà Oreste al quale si avvicina e con il quale appunto condivide questa solitudine che inizia a pesare un po' di meno e poi appunto c'è Diana Diana è una ragazza, anzi una donna indipendente che ha la sua casa, il suo lavoro però comunque le manca qualcosa e quel qualcosa è una persona accanto ma questa persona accanto in realtà si paliserà sotto il spoglio di un ammiratore segreto che lei incontrerà diciamo disfuggita anche durante una festa in maschera a Venezia che le manda delle lettere anonime e che lei tuttavia incontrerà anche grazie a un podcast che si chiama Le Voci del Condominio che appunto racconta le vicende di questo condominio così particolare gestito da non si sa chi probabilmente una sorta di Cyrano de Bergerac di Burso Buenos Aires e attraverso appunto questo podcast lei riuscirà un po' a capire a incontrare questa persona e soprattutto a capire un po' più di sé anche questo è un aspetto molto interessante poi ovviamente ci sono altri personaggi infatti vediamo la vedova Merlizzi una signora piuttosto attempata che deciderà di ospitare di aprire le sue porte a dei profughi ucraini lei in realtà avrebbe voluto una donna giovane che potesse in un certo senso aiutarla ad affrontare questa parte della sua vita quest'età un po' particolare da gestire un po' complicato da gestire ma in realtà vedrà arrivare un bambino piccolo cioè il figlio della persona che lei ha ripetuto fosse la sua badante e la nonna di questo bambino ma in realtà la cosa non la sconvolge affatto perché nonostante le difficoltà legate alla lingua al bisogno di capirsi quindi i traduttori simultanei le prime perplessità insomma di fronte a persone che provengono da un mondo totalmente diverso e hanno un vissuto piuttosto pesante perché comunque stavano scappando da una guerra lei non si perde d'animo trova comunque un buon compromesso un modo di comunicare tra di loro e si legherà molto profondamente a queste persone e soprattutto al bambino infatti poi lo porteranno anche al mare insomma ci fa vivere ci racconta anche uno spaccato di vita vera perché purtroppo la guerra in Ucraina è scoppiata nel 2022 ancora non è finita e io spero che finisca presto ma ci racconta proprio la tragicità di quegli eventi ma sempre con grazia con contatto ecco questo è molto è molto bello è qualcosa di veramente pregevole secondo me è uno dei lati migliori del romanzo altri personaggi sono appunto Bronte del quale vi ho già parlato e poi ci sono Bea e Book e Bea e Book sono sposati e loro vivono abbastanza serenamente la loro vita Bea insomma le preoccupazioni di una qualsiasi coppia ma in realtà c'è un segreto tra di loro infatti Book è stato costretto a dare le dimissioni dal suo capo ma non l'ha detto la moglie non l'ha detto la moglie perché temeva che lei si potesse agitare si potesse preoccupare anche in virtù di tutti quanti di tutte le difficoltà anche economiche che si devono far fronte a cui dovevano far fronte perché come sappiamo tutti nel 2022 ci sono stati tanti rincari le bollette che aumentavano le abbiamo parlato poco fa e quindi insomma era un periodo piuttosto complicato e Book però decide di non dire subito alla moglie che ha perso il lavoro anche perché il cavo gli ha garantito due anni di stipendio gli ha dato ovviamente il corrispettivo di due anni di stipendio e decide quindi anche Memore della lezione imparata attraverso la pandemia di prendere in mano la sua vita di provare a fare quello che veramente vuole fare che è fare radio e quindi si organizza interrà si organizza in uno dei locali del condominio un piccolo studiolo dove lui fa radio ma nel momento in cui è oggetto di un pettegolezzo creato proprio da Vitova Berlizzi che sospetta che lui in realtà lì si incontri in uno dei locali del condominio si incontri con l'amante perché il bambino aveva visto anche le pareti fodrate con i cartoni delle uova e quindi chissà che cosa succedeva 50 sfumature per capirsi quindi nel momento in cui lui è oggetto di questo pettegolezzo Agnes che poi è un'altra condomina una stramba cuoca catalana con la passione per la cucina e i fiori di Bach ma una passione per la cucina è piuttosto deleteria perché lei decide di mettere sempre la sua firma anche su piatti della tradizione che sarebbe meglio che lei non toccasse comunque lei è molto amica di Sofia di Bea scusate e nel momento in cui lo affronta poi verrà fuori la verità e qui parte lo spoiler la verità infatti è che Book è la voce del condominio e lui infatti aveva deciso di provare appunto a vivere veramente il suo sogno che è quello di fare radio e aveva iniziato questo podcast e attraverso questo podcast in realtà lui aiuta i condomini a fare a tirare fuori veramente quello che hanno dentro e a fare in modo che le loro storie si incontrino a parlarsi a raccontarsi a cuore aperto ed è una forza veramente portentosa e questo spiega anche le lettere che poi arrivavano nel condominio che spronavano appunto i condomini a prendere in mano l'unità a fare insomma quello che desideravano davvero che avevano nel cuore fine dello spoiler ora parliamo brevemente dei luoghi perché in realtà i luoghi sono due il condominio appunto che a metà tra un luogo è un personaggio una cosa molto bizzarra però è così è la verità quindi noi vediamo questo condominio vediamo l'androne vediamo si e no di sfuggita le case dei condomini ma più che altro noi vediamo degli spaccati delle scene di vita quotidiana cioè loro che fanno colazione che commentano la notizia che sono a letto si svegliano quindi in realtà vediamo dal mio punto di vista abbiamo visto poca ambientazione ma abbiamo visto più che altro un modo in cui loro vivono quei luoghi che è diverso e poi c'è il Macondo che invece appunto è questo ristorante gemellato di fatto con il condominio con Palazzo Ranieri che è appunto questo locale un po' particolare un po' sui generis dove ci sono tutte quante queste iniziative anche un luogo in cui si incontrano i condomini in cui sbocciano delle storie d'amore e in cui si vivono in maniera in maniera molto intensa anche quelli che sono gli avvenimenti cardine appunto del 2022 come dicevo la guerra ma non solo anche eventi più felici come i festeggiamenti per il giubileo della regina Elisabetta e altra cosa poi è il linguaggio il linguaggio è sicuramente molto molto scorrevole veloce ma lo definirei più che altro frizzante perché la sensazione che si ha è di sì non si sta utilizzando un linguaggio particolarmente aulico o astruso ma è un romanzo che si fa leggere che ti tiene compagnia che ti intrattiene ti fa sorridere ti fa riflettere e penso che questa sia proprio sia la sua forza perché è in grado di raccontare la storia di tanti personaggi ma in realtà di raccontare la storia di tutti noi ed è proprio questo camminare insieme a noi camminare con la nostra storia nella nostra storia che ce lo rende così vicino e caro infatti anche il fatto di raccontare appunto gli eventi salienti del 2022 eventi che abbiamo vissuto tutti come ad esempio il ricordo del momento in cui abbiamo tolto le mascherine lo scoppio della guerra i rincari la regione Elisabetta che sta male poi il momento in cui muore insomma tutte tutte queste le elezioni tutte queste notizie in realtà ci avvicinano tantissimo riducono enormemente la distanza tra noi e i personaggi e questo dicevo è secondo me il punto di forza di questo romanzo che io consiglio consiglio vivamente perché credo che sia un ottimo compagno per per trascorrere delle ore leggere delle ore leggere ma sempre con un occhio anche a temi più importanti infatti mi ha molto colpito anche il modo in cui è stata affrontata la depressione di regina che in realtà non voleva si era appunto chiusa aveva utilizzato il fatto di non sentire proprio per schermarsi dal mondo e anche la solitudine che provano che hanno provato queste persone che si sono anche tra l'altro trovate a vivere la pandemia praticamente chiuse in casa da sole e è qualche cosa che appunto ci rirende molto vicini e molto cari e come dicevo tutto è raccontato con estremo tatto ed estrema grazia seppur con leggerezza quindi essere state in grado di unire tanti elementi così diversi secondo me lo rende assolutamente vincente e lo rende degno di riconoscimenti riconoscimenti importanti e quindi io credo di aver detto veramente tutto nell'info box vi lascio tutte quante le informazioni del caso anche il link amazon affiliato qualora voi vogliate acquistare questo testo e anche il link a libro misù che è il gruppo di lettura che gestisco e che si riunisce online ogni mese io quindi vi ringrazio ancora per essere stati con me e vi mando un grandissimo bacio alla prossima